Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. In totale tra venerdì e domenica sono state controllate su tutta la provincia 551 persone e 137 attività commerciali, 23 le sanzioni complessive, tra violazioni per il contenimento della diffusione del coronavirus, denunce all'autorità giudiziaria e segnalazione al prefetto. In particolare la tenenza di Baia ha intimato la chiusura per cinque giorni a due ristoranti di Bacoli dopo aver constatato la presenza in quattro distinte cerimonie, tre prime comunioni e un battesimo, di circa 120 invitati, sanzionati i due titolari. Il gruppo di Nola ha riscontrato che in un panificio non era stato installato il termoscanner per all'irrelazione della temperatura dei clienti e una dipendente non utilizzava la mascherina. Nell'ambito di un ulteriore controllo presso un long bar dell'area Nolana sono stati rilevati due lavoratori irregolari. Il secondo nucleo operativo metropolitano nel capoluogo, tra i quartieri Vomero e Chiaia, ha sanzionato una ditta di gestione di parcheggi che non aveva mai effettuato la sanificazione dei locali e non disponeva del registro per il rilevamento della temperatura del personale dipendente. Scoperti anche due lavoratori in nero. La compagnia di Giuliano in campagna, tra il medesimo comune metropolitano e Merito di Napoli, ha sottoposto a sequestro diverse centinaia di grammi fra hashish e sigarette di contrabbando, segnalando al prefetto e denunciando l'autorità giudiziaria nel complesso due responsabili. La compagnia di Torre Annunziato, unitamente al commissariato e alla polizia locale, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Piombiera e via Vittorio Veneto, zone tipicamente interessate dalla Movida, sequestrando due slot machine in un'attività priva di autorizzazioni e denunciando il titolare per esercizio di gioco d'azzardo. Denunciato anche il titolare di una sala giochi, poiché raccoglieva scommesse in forma abusiva e un'avventura per partecipazione a gioco d'azzardo. Sanzionate infine 5 persone che si trovavano all'esterno di un locale per inosservanza del rispetto del distanziamento sociale.